Oggi un grandissimo momento di condivisione e di ritorno indietro nella storia. Sì, siamo stati noi coinvolti sin dall'inizio a far parte di questa organizzazione, ricevere dei concittadini che abitano in America di origini villabatesi della famiglia Castello, come mia nonna per noi è stata una grandissima gioia. Italian Routine praticamente è il ritorno alle origini, quindi credo che sia una cosa molto importante non dimenticarsi mai da dove si viene. Praticamente la provenienza era dei nonni di Villabate e loro a distanza di 60 anni sono ritornati nel paese di origine. Devo dire che questo incontro ha suscitato in me tanta emozione, perché vedere queste persone che anche voi le avete viste, anche loro sono emozionate, forse non si aspettavano un'accoglienza così festosa. Loro non sono nati a Villabate, sono figli di emigrate di Villabate e se hanno sentito la necessità, il bisogno, la voglia di venire a ritrovare le loro origini, vuol dire che i loro genitori sono stati bravi a non fare disperdere il patrimonio culturale nostro, l'amore per le proprie cose. Io sono veramente orgoglioso, sono onorato, più che orgoglio, sono onorato di averli accolti nel migliore dei modi, come potremmo accogliere nel futuro i tantissimi villabatesi che ancora ci sono, che sono tantissimi, che sono in tutto il mondo. La data che sono emigrati i loro genitori e chi l'ha accompagnato, chi l'ha accompagnato è stato uno zio materno, mia nonna, o zio di mia nonna, che si chiamava Guida Giuseppe, che era lo zio, i suoi genitori nel 1921 se li ha portati negli Stati Uniti, emigrati. Contento di aver ricevuto questi cugini che ho mai visti, ero tanto contento di vederli, li abbiamo riconosciuti con ritardo, ma non è mai troppo tardi, contentone di averli ricevuti. Mi sono emozionato tanto, mi ho messo pure a piangere, ma è l'affetto che si crea nella famiglia e sono stato sempre contentone. Ma io provo tantissima emozione, perché veramente quando c'è un ritorno alla patria, un ritorno veramente alle proprie origini, c'è veramente un'emozione grande. Tutto questo periodo dell'organizzazione in primi si sono stata molto convolta, proprio come persona principalmente, prima di fare la coordinator. Grazie anche alla collaborazione dei parenti, che veramente hanno collaborato con entusiasmo e con lo spirito giusto dell'evento stesso. È un ritorno alle origini, un momento di grande incontro, di ricordi, di emozioni, che comunque salvaguardano un valore importante, le radici. Il suo papà gli diceva sempre, quando un giorno tornerai a Villa Abate verrai trattato come un re e ti apriranno tutte le porte. E lui oggi si è reso conto che è vero. Andranno sempre oltre quello che possono fare. Adesso ritornando in America, che cosa ti porti della Sicilia nel cuore? Il calore e l'amore che si stanno sprigionando qua oggi.